si sta per concludere un giorno importantissimo un giorno di morte e per noi siciliani è una cosa importantissima io ero quando l'annico aspettavo questo giorno con l'argento avevo addosso durante la notte o domere da nottata venivano i morte e questa è la cosa che mi faceva impazzire perché mia madre mi diceva rommi, rommi, picchia stai notte venivano i morte e ti porto un giocattolo ma come potevo rommere pensavo che c'era un'izomba a mia casa voi vi rendete conto? oppure rommi, rommi perché i morti sono spetti perché trattano i piedi e ti mettono ai cirandallocchi se quando ero nico io ci avessero stato l'elefono azzurro a mia madre ci avessero fatto fare a 30 anni caccia però era una cosa bellissima poi tu l'indomani ti svegliavi e scendevi in strada e sparavi come un pazzo tuttavia questo sei cowboy tranne un anno che mi hanno regalato una cosa stupenda mi hanno regalato il vestito di toro seduto mi hanno regalato i scenni mamma mia era tutto parecchio con dipendente la testa con l'ascia l'ho disotterrata ho dichiarato guerra a tutti solo che c'era un piccolo problema io ero l'unico indiano un dango e terra di cowboy i coppi mi fanno federe perché per loro quell'anno il giocattolo sono stato io io bello da mia puttana la caglia e ci resta una mia bacia oh grazie signor storina la cosa che mi fa impazzare sapete che che mia mamma quando io ero svenuto che non potevo parare io ero morto papà io ero morto io ero io ci resta una bacia ma cosa sape quando si è detto davano sto piccirino grazie a tutti